Musica Aperti per ferie, firmato Canile Municipale, città di Torino, bentornata Elin. Grazie, bentrovati a tutti voi e siamo contenti di avervi di nuovo qui. Significa che in qualunque momento della giornata, telefonando con orari previsti, potete percorrere 120 storie. Sì, noi cerchiamo di andare in controtendenza, invece di chiudere per le ferie siamo aperti. Con l'occasione ricordiamo a tutti che siamo aperti sia l'8 di agosto che il 22 di agosto, sono due domeniche, siamo aperti sabati, sempre dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Scrivete una mail a canilerefugio.comune.torino.it Per chi ci seguirà in replica, saremo aperti tutto l'anno. Sempre, noi siamo sempre aperti. 118 storie, due ve le presentiamo qui al guinzaglio di Giovanni. Sì, cominciamo con Salem e Pepper, che sono questi due bellissimi fratellini, molto attivi, hanno circa 4 anni, si lasciano volentieri coinvolgere nei giochi. Quindi, siccome oggi facciamo il tema cane adatto alle vacanze, ecco, questi sono due cagnolini adatti alle vacanze in città. Perché sono in grado di perlustrare e fare attività collaborative, ma sono anche in grado di essere gestiti in un ambiente urbano. Sono due cagnolini che sono anche facili della gestione dal punto di vista delle dimensioni. Possono essere adottati in coppia, noi ci speriamo, però hanno buone competenze, quindi anche adozioni singole. Traduco, potrebbero fare la felicità di una persona sola in queste città che di socializzazione non ha tantissimo. Che dici, partiamo? Ricordiamo che Paolino, della scorsa puntata, ha comunque trovato a casa uno tra tanti. Sì, e poi ripresentiamo l'ultimo fratello rimasto, che è Biagio. Bene, saluti a Paolino e partiamo con la rassegna. Partiamo in bellezza, lei si chiama Linda, è una malinois, cucciola, una compagna per la vita, più che per le vacanze, come mi dicevi prima. Sì, cominciamo con le vacanze e poi stiamo insieme tutti i giorni della nostra vita. Lei è un cane giovane perché ha circa un anno, è molto ricettivo e dinamico, è un mix pastore, per cui il mix di razze tende a renderla un cane molto collaborativo e partecipativo a tutte le attività che le vengono proposte. Per cui vanno bene famiglie dinamiche a cui piaccia stare all'aria aperta, perché è un cane che sicuramente ha molta energia e molte motivazioni da sfogare, però è anche un cane che sa ritagliarsi i suoi momenti di relax, come potete vedere, in modo da riuscire a rilassarsi e a tranquillizzarsi. Consigliamo l'adozione ovviamente a coppie, giovani, dinamiche e a coloro a cui piace restare all'aria aperta. Non è stata testata con i gatti e con altri cani. Data la giovane età è un po' erruente, per cui ci vuole una guida sicura. Venitela a conoscere a canile rifugio chiocciolacomune.torino.it Il nome Zorba evoca immagini e musiche, quelle che potrebbe proporvi questa splendida cagnolona. Sì, lei è un mix in tanti sensi. È giovane, è di un anno, è sterilizzata, è un mix pastore molosso e ha all'interno tante anime. All'inizio è un pochino timida e diffidente sia nei confronti delle persone che delle novità. Non so se vi ricordate l'altra volta che l'abbiamo presentata è stata tutto il tempo con la coda in mezzo alle gambe. Adesso sta seguendo un percorso con gli educatori e ci siamo resi conto che in realtà quando prende confidenza e fiducia è un cane solare e ama essere coinvolta nei giochi e nelle attività. Per questo motivo ha bisogno di una persona che sappia accompagnarla nel suo percorso, nella conoscenza delle sue possibilità e che in qualche modo riesca a conquistare la sua fiducia e la faccia aprire. Ama stare all'aria aperta, correre, muoversi, quindi tutte le persone dinamiche per lei sono l'ideale. Mentre con i cani, a differenza di Linda prima, manifesta un pochino di timidezza e di diffidenza, quindi fa un po' fatica a relazionarsi. Però anche in questo accompagnata noi abbiamo grande fiducia. Venite a conoscere Zorba al Canile Rifugio, lei vi aspetta. Continuiamo con questa bella sfilata, lui si chiama Biagio, spettacolare. Sì, l'avevamo già presentato Cucciolo, oggi come vedete abbiamo fatto tutte le grandezze, tutti i colori, maschio-femmina, un po' più timidi, un po' meno timidi. Lui è un bel pastorello, bello deciso, sa già quali sono le sue inclinazioni di razza. Sta purtroppo entrando nell'adolescenza in canile e questo non lo aiuta a fare esperienze, per cui speriamo per lui al più presto un'adozione. Può essere adottato anche da famiglie con bambini non troppo piccoli, sia in appartamento che in case con giardino, purché faccia sempre parte del nucleo familiare. Meglio no gatti, no galline. E noi siamo anche del parere che più grande è il cane, più grande è la possibilità di ricevere e dare amore. Perciò venite a conoscere Biagio al canile rifugio di Strada Quornie 139. I colori di paloma sono del cicoslovacco, ma è anche forse un po' più pastore tedesco. Sì, è una bella lupacchiotta del 2014. All'inizio anche lei è un pochino diffidente e tende ad allontanarsi di fronte alle novità, però ama molto per lustrare, controllare il territorio, rincorrere, prendere le cose in movimento. Usa un pochino la bocca, però accetta sempre di essere fermata, quando i suoi comportamenti diventano un pochino esagerati, non stringe mai. Conserva le caratteristiche di razza, quindi ha un bel temenamento, va assolutamente guidata e deve essere valorizzata per quelle che sono le sue qualità. Ha tra l'altro un ottimo naso, come potete notare annusa tutto, quindi spesso le proponiamo dei giochi di ricerca olfattiva che lei fa molto volentieri. Può essere adottata da subito in famiglie con bambini non troppo piccoli, meglio no gatti e no altri cani in questo momento. Sia in appartamento che con giardino, però, deve sempre fare parte del nucleo familiare. Venitela a conoscere al Canile Rifugio di strada Cornier 139. Ho un sacco di voglia di giocare, direi, per sintetizzare tutto ciò che hai detto. Oggi abbiamo tutti i cani attivi, perché oggi facciamo la proposta a cani per le vacanze e per il resto della vita. Qui anche famiglie attive vanno benissimo. Bellezza imbarazzante, bugo il suo nome, vitalità, argento vivo. Sì, esuberanza, argento vivo allo stato puro. Credo cucciola. Sì, è un giovane mix pastore, guardiano, maschio intero. È un cane molto dolce, socievole, docile, esuberante. Tirate fuori tutti gli aggettivi belli che vi vengono in mente. È capace però anche di prendersi degli spazi di tranquillità per prelustrare in autonomia. Ha bisogno di essere guidato per poter affrontare nel modo giusto le esperienze che lo aspettano, sia nei momenti della crescita che per aumentare le sue risorse, per affrontare le nuove difficoltà che gli verranno presentate. Può essere adottato in famiglie con bambini, sia in appartamento che in casa e con giardino, purché non sia relegato in esso, ma faccia sempre parte del gruppo familiare. È da valutare la compatibilità con altri cani. Lui però è bellissimo, è super socievole e dopo tante chiusure e periodi di inattività, bugo è il cane che fa per voi. Venitelo a conoscere al Canile Rifugio di Strada Quornie 139. Sarebbero sufficienti le immagini? In silenzio lasciar parlare questo video. Oggi tutti i cani felici, come potete vedere, e tutti i cani molto attivi. Lei è una bella mix pastorella, conduttore, femmina, sul conduttore non abbiamo alcun dubbio. È un piccolo ragano, è sempre pronta a fare nuove esperienze, è curiosa, è esuberante. Come vedete non sta ferma un attimo. Quindi se siete un po' iperattivi come lei, questo è il cane ideale. Ha un carattere indipendente, quando vuole fare una cosa si impunta, non è facile farle cambiare idea. Quindi ha bisogno di essere guidata con pazienza e cercando anche di sfruttare la sua grande voglia di fare, di cercare di scoprire. È adatta a giovani coppie che amino la natura, passeggiate all'aria aperta, appartamenti, case con giardino. In questo momento è in box con una compagna che si chiama Mia, da poco ha fatto la sua conoscenza e vanno molto bene. Noi siamo dell'idea che la felicità sarà anche un bicchiere di vino, un panino e un bel cagnolino. Padma, il suo nome, scritto dall'inizio delle immagini. Sì, Padma, venitela a conoscere, lei vi aspetta per un percorso con gli educatori qui al Canile Rifugio di Strada Cornie 139. Chiudiamo in bellezza. Non è vero, abbiamo avuto una richiesta a Parigi per Piera, che è la nostra quarta di copertina. Noi dobbiamo guardare oltre, questa persona a Parigi lo sa fare. Che fare? È un po' un problema valutare sia il preaffido che il postaffido, quindi per ora ci siamo riservati. È chiaro che se trovassimo una famiglia nel circondario sarebbe molto meglio. Noi continuiamo a insistere. Piera è pronta per l'adozione, è autonoma nello svolgere le sue... È dotata di un carrellino trazione posteriore. È dotata del suo carrellino. Come potete vedere è sempre molto attiva e vivace. Quindi venitela a conoscere, lei vi aspetta. Bene, io concludo dicendo che è assolutamente assurda che una città come Torino non riesca a ridurre il numero di cani presenti. Sono ben 120, non so se sono 121, con Piera, perché hai presentato dei cani straordinari, Piera inclusa. Sì, veniteci a trovare. Noi siamo sempre aperti. Gli educatori vi seguiranno nel percorso di conoscenza dei nostri amici a Quattro Zampe. Vi ricordo ancora che siamo aperti sia domenica 8 che domenica 22, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Scrivete una mail a canilerifugio.chiocciolacomune.torino.it Aperti per ferie. Grazie, grazie a tutti voi per l'attenzione. Grazie a Giovanni e ai collaboratori volontari. Grazie a te che sei qua e ti fai in 4, 8, 16... Bene, veniteci a trovare. Noi vi aspettiamo e con noi vi aspettano tutti i nostri amici a Quattro Zampe. Grazie a tutti voi per l'attenzione e buona giornata a tutti. Rivediamo i nostri amici e rivediamo Piera, mi raccomando. Grazie a tutti voi per l'attenzione e buona giornata a tutti. Grazie a tutti. L'Automobile Club Torino che patrocina dalla nascita video adozioni ha deciso di pubblicare sul proprio sito acitorino.it le nostre trasmissioni. Da sempre l'ACI Torino è impegnato nella campagna contro l'abbandono degli animali lungo la strada perché sono causa certa di incidenti. Ringraziamo l'ACI per la collaborazione e per il contributo alle adozioni.